buongiorno a tutti sono nella mia cucina e la festa di pasqua si avvicina ognuno di noi ha il suo modo per fare la torta di pasqua io ho una ricetta un po particolare un po personalizzata e risultato squisito e ve la mando un pochino più tecnologica invece che farla in diretta ve l'ho preparata così piano piano con tutte le dosi tutte o tutto il materiale pronto passo passo proveremo a fare insieme questa torta di pasqua e mi farete sapere chi la farà come verrà buon lavoro a tutti e buona giornata buon lavoro a tutti e buona giornata buon lavoro a tutti e 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 buona giornata buon lavoro a tutti e 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 bu Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.